Capitolo undici. Nove anni. Stavamo giocando a carte sotto al portico e mia madre e Susanna bevevano due margarita mentre giocavano. Il sole stava iniziando a calare e presto le mamme sarebbero andate dentro a lessare le pannocchie e preparare gli hot dog. Non ancora però. Prima fecero una partita. Laurel perché chiami mia mamma Beck quando tutti la chiamano Susanna? volle sapere Jeremiah. Lui e mio fratello Steven erano in squadra assieme e stavano perdendo. Jeremiah trovava noiosi i giochi di carte perciò trovava sempre qualcosa di più interessante da fare di cui parlare. Perché Beck è il suo cognome da nubile? spiegò mia madre spegnendo una sigaretta. Fumavano soltanto quando erano assieme dunque era un'occasione speciale. Mia madre diceva che fumare con Susanna la faceva sentire di nuovo giovane. Io le rispondevo che il fumo le avrebbe accorciato la vita ma lei respingeva le mie preoccupazioni dandomi della catastrofista. Che cos'è un cognome da nubile? chiese Jeremiah. Mio fratello diede un colpetto alle carte di Jeremiah per farlo tornare a giocare ma lui lo ignorò. È il cognome che una donna ha prima di sposarsi scemo disse Conrad. Non chiamarlo scemo Conrad lo sgridò in maniera automatica Susanna mentre disponeva le sue carte. Ma perché la donna è obbligata a cambiare cognome? si domandò Jeremiah. Non è obbligata io non l'ho fatto io mi chiamo Laurel Dunn proprio come quando sono nata. Bello no? Mia madre amava sentirsi superiore a Susanna per non aver cambiato cognome. Dopotutto perché una donna dovrebbe prendere il cognome del marito. Non è giusto? Laurel per cortesia taci ribatté Susanna posando alcune carte sul tavolo. Ramino. Mia madre sospirò posando a sua volta le carte. Non ho più voglia di giocare a Ramino. giochiamo a qualcos'altro. Giochiamo a famiglia con i ragazzi. Non sai perdere? protestò Susanna. Mamma non stiamo giocando a famiglia. Stiamo giocando alla Peppa e tu non puoi giocare perché cerchi sempre di barare. Dissi io. Conrad era il mio compagno di squadra ed ero piuttosto certa che avremmo vinto. Lo avevo scelto apposta. Conrad sapeva vincere. Era il nuotatore più veloce, il miglior surfista e vinceva sempre a carte. Susanna conzonse le mani e rise. Laurel questa ragazza è uguale a te. Mia madre rispose. No belli è figlia di suo padre. E si scambiarono uno sguardo misterioso che mi fece venire voglia di chiedere. Beh che vuoi dire? Ma sapevo che mia madre non si sarebbe mai sbottonata. Era brava a mantenere i segreti. Da sempre. E poi in effetti assomigliavo a mio padre. Avevo i suoi stessi occhi a mandorla, una versione più minuta e femminile del suo naso e il medesimo mentosporgente. L'unica cosa che avevo preso da mia madre erano le mani. Poi quel momento passò e Susanna mi sorrise e disse. Hai proprio ragione belli. Tua madre bara. Ha sempre barato alla peppa. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare bambini. Susanna ci chiamava sempre bambini ma non me la prendevo. Normalmente sì. Lei però non lo diceva in maniera negativa come se fossimo piccoli o infantili. Piuttosto dava l'idea che avessimo ancora di fronte una vita intera.